Differenziali, argomento un po' spinoso da comprendere, da capire, quindi non perdetevi questo video fino alla fine perché cercherò di spiegarvi nel migliore dei modi, in maniera abbastanza semplice, come funziona un differenziale in un'automobile a cosa serve e come è fatto meccanicamente se è la prima volta che entrate su questo canale, beh, date un'occhiata un po' in giro, ci sono tante playlist, tanti argomenti ho caricato più di 120 video in cui vi spiego il mondo delle automobili dal punto di vista tecnico anche qualche recensione, anche qualche storia di qualche motore quindi date un'occhiata e se vi piacciono i contenuti iscrivetevi, per me è fondamentale Ma torniamo a bomba col video, quindi differenziale Il differenziale viene posto dove? Nelle ruote motrici della macchina quindi guardiamo un attimo questo schema per farvi capire un attimino cosa serve e perché Dunque, qui ho schematizzato un veicolo a trazione posteriore in questo caso ma è indifferente se sia a trazione anteriore o se è a trazione integrale beh, ce ne saranno due, tre, ora vi farò un attimo capire Dunque, qua c'è il motore, quindi posto per esempio anteriormente in maniera longitudinale qua c'è il cambio e il cambio trasmette poi potenza in uscita verso le ruote Se non ci fosse il differenziale, qua ci sarebbe un ingranaggio che semplicemente connette rigidamente le ruote destra e sinistra con l'albero di trasmissione, quindi in maniera rigida Invece qui vi ho rappresentato il differenziale, questo cerchio nero, poi vedremo ora al dettaglio come funziona quindi viene posto dove ci sono le ruote motrici per far sì che queste possano ruotare con velocità differenti durante la marcia quindi se fosse la trazione anteriore il differenziale sarebbe qui al centro se fosse la trazione integrale, beh, ci sono tante configurazioni perché il differenziale potrebbe anche essere cene tre quindi anteriore, posteriore e centrale per colmare le differenze di velocità tra asse anteriore e posteriore ma innanzitutto quali sono le funzioni principali di un differenziale? Beh, essenzialmente tre, una, già l'avete capita, per mettere la rotazione differente tra la ruota destra e la ruota sinistra in curva la seconda è quella di splittare il moto tra due alberi, tra due semiassi quella è la ruota destra e quella è la ruota sinistra e quindi di convertire il moto, diciamo, a 90 gradi cioè che arriva all'albero di trasmissione e poi si trasmette lateralmente verso le ruote e infine quello di fare da riduttore, infatti si chiama rapporto al differenziale, rapporto al ponte è proprio il rapporto che c'è tra l'albero di trasmissione e la corona del differenziale e questo riduce i giri e aumenta la coppia ed è molto importante poi per la dinamica, diciamo, in tutta la macchina ma torniamo alla funzione principale che è quella di consentire differenze di velocità quando in curva vi faccio un esempio numerico, mettiamo che un veicolo stia percorrendo una curva con un raggio di 100 metri ad esempio una curva magari autostradale, viaggia a 100 km oraria, una carreggiata tra le due ruote è una differenza, quindi larghezza di 2 metri facendo un po' di conti, è ovvio che la ruota interna percorrerà una traiettoria che è un po' più stretta della ruota esterna esattamente più stretta di 2 metri della ruota esterna, ovvero la larghezza della carreggiata se queste due linee rosse sono le traiettorie percorse dalla ruota interna e dalla ruota esterna qui ci sarà una differenza di 2 metri come vi ho detto, perché 2 metri è la carreggiata facendo un po' di conti si ottiene una differenza di velocità di circa 2 km orari tra la ruota esterna e la ruota interna viaggiando a 100 km orari, diciamo, di media della velocità del veicolo e ovviamente la traiettoria, ho detto un raggio di 100 metri, che è questo qui, medio, quello centrale questo si ripercorre anche, per esempio, 2 km di differenza quindi una ruota, in questo caso la ruota interna viaggerà a 827 rpm, quella esterna più velocemente perché la circonferenza che deve percorrere è più grande, più lunga quindi deve percorrere più strada la ruota esterna la ruota interna percorre meno strada e ruoterà più lentamente quindi esattamente 813 rpm in questo conto quindi c'è una bella differenza e se l'asse fosse collegato rigidamente quindi senza differenziale ovviamente a comandare sarebbe la ruota più veloce quindi quella esterna quindi quella interna si ritroverebbe a girare alla stessa velocità di quella esterna quindi questi 2, 3, 4 km in più e quindi avrebbe degli slittamenti che ovviamente sono assolutamente negativi consumo gomma, attriti, consumo di carburante, instabilità da evitare ovviamente assolutamente per questo motivo è stato inventato il differenziale vediamo com'è fatto ora con questo schema che vi ho disegnato sostanzialmente qui abbiamo il differenziale trazione posteriore, differenziale posteriore questo è un po' quello che succede a un livello leggermente più basso quindi l'albero di trasmissione che arriva dal motore con questo pignone genera appunto il rapporto di riduzione che vi dicevo viene ingranato con questa corona che è nel differenziale che accoglie quindi la potenza che arriva dal motore il differenziale poi ha questa parte chiusa qui, questa è nera e da qui poi partono i due semiassi quindi due alberi che vanno alle ruote che devono avere quindi possibilità di ruotare a velocità differenti questo di qua e questo da questo lato andando ancora più nel dettaglio cosa c'è qui all'interno di questa parte chiusa disegnato in nero? e lo vediamo qui questo è quello che succede non vi spaventate perché è abbastanza semplice da capire con questo schema quindi sostanzialmente qua vi ho riportato in nero tutta la parte della scatola del differenziale è il pignone con la brasmissione che arriva dal motore questo qui quindi dal motore arriva la potenza qui al pignone questo ingrana con questa corona quello che vi ho rappresentato qui e quindi tutta questa parte in nero viaggerà alla stessa velocità di rotazione si muoverà sempre tutto in blocco al nero poi quindi alla scatola del differenziale sono collegati due satelliti questi qua verdi sono due ruote dentate le vedete qui queste due verdi rappresentate in questa immagine reale qui con uno schema in 3D queste due sono due ruote dentate che hanno la possibilità di ruotare su se stesse quindi possono stare o ferme o ruotare su se stesse ora vediamo quando allo stesso modo a queste due sono ingranate da un lato e dall'altro le due le altre due ruote dentate sempre coniche che vanno poi alla ruota destra questa qui e alla ruota sinistra questa qui quindi abbiamo quattro ruote dentate che ingranano tra di loro coniche due che possono ruotare su se stesse quelle sopra e sotto e due che vanno alle ruote cosa succede? supponiamo di essere esattamente in rettilineo quindi le due ruote destra e sinistra viaggeranno alla stessa identica velocità cosa succede al dentro il differenziale? bene riceve potenza dal motore la corona gira tutta la parte nera gira in questo caso siccome non c'è differenza di velocità tra questa ruota qui dentata gialla a sinistra e questa gialla a destra tutto il blocco si muoverà assieme il blocco nero i due satelliti verdi non ruoteranno su se stessi ma si muoveranno in blocco così assieme alla parte nera trascinando visto che sono ingranate a loro volta le due ruote gialle quindi le due ruote destra e sinistra esattamente alla stessa velocità quindi in questo caso si muove tutto come se fosse un blocco unico rigido quindi in questo caso il differenziale non sta lavorando effettivamente che succede se c'è una differenza di velocità bene qua entra in gioco appunto la parte del differenziale importante cioè i due satelliti questi qua verdi se c'è una differenza di velocità per esempio stiamo percorrendo una curva a sinistra quindi la ruota questa qui destra sarà più veloce di questa qui che vi sto facendo vedere dunque ruotando così questa differenza di velocità verrà assorbita dai due satelliti che avranno una velocità di rotazione loro propria per esempio in questo caso curva a sinistra quindi questa ruota qui sarà più veloce di questa quindi questa ruoterà in questo modo tutta la parte nera anche i satelliti ruoteranno così ma allo stesso tempo ruoteranno uno in un verso uno nell'altro proprio per accogliere la differenza di velocità tra questa ruota e quest'altra ruota tentata al caso limite ovviamente sia quando una delle due ruote è ferma per esempio se questa ruota qui quindi questa parte già alla ruota sinistra per esempio è completamente ferma e allora questi si muoveranno assieme questi ruoteranno una velocità a molto alta che appunto sarà completamente trasmessa a questa ruota tentata sulla destra quindi alla ruota destra è tutta una questione di gioco di differenze di velocità qual è il problema di questo differenziale che è proprio questo esempio che vi ho fatto cioè se una ruota è ferma cioè se una per esempio zero attrito sull'asfalto quindi per esempio sul ghiaccio mentre l'altra ha attrito il differenziale manderà quasi tutta la potenza della macchina alla ruota che ha meno attrito quindi che è più libera di girare perché è in questione di prediligere le velocità e quindi la macchina non riuscirà a muoversi e per questo che sono stati inventati i differenziali autobloccanti o slittamento limitato ma li vedremo in un prossimo video se vi interessa allora spero di essere stato chiaro non è un argomento molto facile da spiegare alla lavagna così senza avere un pezzo effettivamente in mano magari se riesco a recuperarne uno vi farò un altro video aggiornamento poi lasciatemi un commento per qualunque curiosità e consiglio e ci vediamo al prossimo video ciao